Waiyo! Se avete bisogno di crediti passate da igvolt.it e con il codice sconto The Giant avrete il 6% di sconto Cliccate il link in descrizione per ricevere crediti in maniera facile, veloce e accessibile a tutti Link in descrizione A POMG! Quasi 30.000 visualizzazioni e più di 2.000 mi piace Voi siete pazzi! Vau sita pazze! E ciao a tutti ragazzi e gente, ben ritrovati qui sul mio canale Siamo tornati signori nel giro di due giorni sul draft Ma come vi avevo promesso, questo video riguarda il ritorno del Girl Random Draft Come cavolo, non mi ricordo come l'ho chiamato, però sti cazzi Signori, l'ultimo video, il primo video che ho fatto su sto video che ho inventato Praticamente nel quale Gabriella sceglie, in base ai nomi, i giocatori del draft Draft È andato da Dio signori, quasi 30.000 visualizzazioni e più di 2.000 mi piace Io non ho veramente parole, è andato nelle tendenze sto video Io non ho veramente parole ragazzi, vi ringrazio a tutti Vi ringrazio per l'aumentare degli iscritti che stanno andando veramente in una maniera assurda Quindi signori, oggi ci riproveremo Faremo creare la squadra di nuovo a Gabriella E ovviamente, come la scorsa volta, gli dirò i nomi dei 5 giocatori che compariranno E lei dovrà sceglierne uno in base alle sue capacità calcistiche La scorsa volta creammo la squadra, riuscimmo a fare la prima partita Però vi dico, stavolta faremo questo video soltanto con la scelta, con la creazione della squadra Poi magari lo faremo un episodio a parte con il draft giocato Perché c'è sti cazzi, il divertimento è all'inizio Quindi dedicheremo un unico video a questo La scorsa volta, per la squadra titolare, gli feci scegliere in base ai nomi Mentre la panchina doveva dire un numero da 1 a 5 così a random Quindi signori, non perdiamo altro tempo, chiamiamo Gabriella E speriamo di non far schifo come la scorsa volta Ok, mettiamo in viva voce E dovremmo andare... Oddio, è un rumore stranissimo Pronto? Pronto? Pronto, ciao Ciao, aspetta, si sente un tipo le cicale Non ce ne sono a cicale in casa mia, non sono in casa tua Allora, tu sei pronta? Ti ricordi come funziona? Sì, 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 mi ricordo Intanto non è neanche salutato, ma sei da maleducato Ciao a tutti Eh, ciao Accediamo con i crediti, mi sei costata 30.000 crediti Partiamo col modulo, veloce veloce Allora, 343 in linea, che non so che cazzo vuol dire 4231, 433 contenimento, 3412 e 442 in linea 433 contenimento Di nuovo, è lo stesso dall'altra volta È lo stesso? Sì, va bene Vabbè, mi piace, è il modulo che mi piace di più Allora, ci sono e capita... Allora, lei praticamente i giocatori forti più o meno li conosce, capito? Allora, stavolta però devi stare anche attenta all'intesa Eh, e come si fa? Praticamente l'intesa è quando... Tu hai mai visto la squadra che ci sono le linee tra un giocatore e l'altro? No No, perfetto Allora, i primi 5, il capitano Quadrado, Musacchio, Courtois, De Bruyne, Messi Messi Eh, vabbè, questo era... Per questo vi ho detto, raga, che le basi più o meno le esagerano Non è che è stupida, stupida In realtà volevo scegliere Quadrado Hai fatto bene a scegliere Messi, brava Attaccante, prima punta Ok, vai Che schifo Allora, calcola che fanno tutti schifo Wilson, Demir, Paredes, Smolov e Martinez Martinez Brava, fai intesa con Messi perché sono argentini tutti e due, brava Di che lo sapevi È perché lo sapevi tu Eh, ho letto 59, ho capito Eh, bravissima, è un genio Alla sinistra Porca puttana Neymar, Ronaldo, Sanchez, Insigne e Pedro Mm, Neymar Allora, Neymar è Neymar If, quello nero, la carta nera Ah, allora è buono Eh sì, ma Ronaldo No, non lo volevo prendere così, lo volevo Neymar Va bene, va bene, stiamo andando bene rispetto all'altra volta Parolo, Arteta, Bonaventura, Kucca, Atsu Kucca Eh sì, giustamente, ha segnato alla Roma domenica e tu dici Kucca Perfetto Ovviamente Centrocampista, altro centrocampista Allora, ti dico che tra questi uno fa intesa con Messi Anzi, due Ok, vai Gundogan, Rakitic, Biglia, Verratti, Pjanic Oddio, non lo so Rakitic Brava! Guarda, è un genio, guarda che è un genio Se io non ti avessi detto niente, tu avresti preso Pjanic No, no, sinceramente non volevo prenderlo di nuovo Schneiderlin, Atchinson, Fernandez, Diarrà o Diarrea e Kallstrom Terzo ultimo che hai detto, quello di Eh, Fernandez Sì, quello Beh, la più pippa hai preso, eh Cioè, non per dirti, però, vabbè Terzino sinistro Allora Oh mio Dio! Non mi dire niente Non me lo sceglie, raga, non me lo sceglie Rodriguez Marcello Alba Baines Alexandro Marcello Brava! Brava! È Toz Ti ricordi Toz? Sì Che colore è la carta? Viola Quella è i, è l'iro Toz, quella dorata No, la dorata è normale Con la nera Eh, va bene, si ha di tutti, amò È la blu Vabbè che si sta vivendo una squadra assurda Castan Barzagli Manolas Bonucci Garai Manolas Eh, dovevi prendere l'altra volta E lei ha preso stavolta Perfetto, che non c'entra un cazzo Altro difensore Matip Umtiti Zuma Funes Mori Martinez Ma Martinez non lo ho già preso? È un altro Martinez E dai, prendiamolo Magari è il fratello Eh sì, magari è il fratello Giustamente Una filosofia fantastica Perché tra loro fratelli fanno intesa È questo che hai pensato tu Certo Certo, e non è vero Florenzi Aurier Joan Fran Arbeloa Debussy Florenzi Ma sono sempre gli stessi Portiere Horn Ruffier Lopez Ziller Begovic Lopez Allora, 68 68 Ora, la squadra titolare l'abbiamo fatta Ok, la squadra titolare l'abbiamo fatta Ora facciamo i panchinari Vai, da 1 a 5 2 Sommer Vai 5 Burdisso Facciamolo cagare tutti Vai 1 Erkin Che non è detto in romano Erkino 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 Vai 3 Kazri Kazri E kebab E tunisino Il kebab E buono il kebab Vai Attenta qua 1 Ecco, ho detto attenta Ma, ma, ma Ma è una gioia, oh Ma, ma è che te ne verratti No Vai Aspetta 3 Cosa hai detto? 3 Non ci credo Sono quattro Sono usciti quattro Neri Tu hai preso l'unico Oro normale Va bene Non lo so Hai preso Cavani E stava Di Maria Ronaldo Kane E Di Bala E tu prendi Cavani Eh sì, è più bravo Mannaggia, Ronaldo Di Maria Vai Lopez 1 Mario Rui Vai 3 Dai, ga È uscito di nuovo Di Maria e Ronaldo E mi hai preso Cazzorla E c'era di Maria e Ronaldo Ma proprio 1 e 2 Ti fanno schifo Eh, va bene Sì Ma non è giusto Mi hai scartato Ronaldo 3 volte È uscito Ronaldo 3 volte Non l'hai preso una volta Ora lo prendo 1 Ora lo prendo 1 Ora lo prendo 1 Bravo Non ci credo È uscito di nuovo All'1 Che buccio di culo Mamma mia Non ci credo C'è È proprio Il destino Che dovevo prenderlo Ronaldo Non ci credo Che poi le hai detto Prima che uscivano Oddio Va bene Ronaldo Ne mancano due Vai 2 E vabbè Però non è che devi dire sempre Ma 1 e 2 C'è stava a gozza Insigne Pedro E preso Bootland Vai Questo è l'ultimo Sì è l'ultimo Quindi devo scegliere bene No non fanno impazzire come giocatori Allora 4 La mela E la pera Va bene Io ti ringrazio FIFA è stato gentilissimo A farci capitare Ronaldo 4 volte Quante volte è stato Non lo so Cerchiamo di aggiustare Più o meno qui la rosa E vediamo se riusciamo a renderla un po' Più decente del solito Dai Più o meno dell'altra volta almeno Sì è più forte dell'altra volta Su questo non c'è dubbio Però va bene Dai Non ti si può dire niente Tranne per il centrocampo Che fa l'altamente schifo Però per il resto ci può stare Dai Va bene Signori Come vi ho detto prima Il video finisce qui Non vi modifico la formazione Perché magari sotto nei commenti In base a questi giocatori Mi dite quale formazione migliore Per aumentare l'intesa Il massimo possibile Quindi sotto nei commenti Consigliatemi la formazione Un 4-3-3 Con questi giocatori Con un'intesa decente Diciamo Quindi la prossima volta Faremo il draft Sperando che vada meglio Degli altri E noi ti ringraziamo Grazie Prego Grazie Noi ti ringraziamo E le risponde Grazie È giustissimo Prego Ma ok No di niente Signori Spero che il video vi sia piaciuto Se vi faccio così Se tu vi piace Commentate e Condividete Mamma mia A memoria lo sa Vai continua tu Continua tu Mettete No a setta A setta non mi viene Qui sotto c'è il profilo instagram Qui sotto c'è il profilo instagram Profilo instagram in descrizione Link del video precedente Da giant e tutto Ciao No Non era così E lei dice che vede i miei video E attenzione Passate dalla mia pagina facebook Dal mio profilo instagram Tutto sotto in descrizione E poi Data giant e Gabriele No Il video è finito Vabbè Il video è finito Data giant e Gabriele Tutto Ciao 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 Oh, 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 oh.